sulle strade forestali allora va tutto bene andate in bosco dentro e un po' non lo sai mai dove dorme e dove sei l'orso i cani per favore mettete sulla cinghia perché no quando scappa il cane e trova l'orso il cane arriva indietro dalla persona e l'orso arriva anche sicuro e dopo è un problema